Tornano e lo fanno alla grande le notte dei Molini a San Pietro Altanagro, due giorni di splendida musica, di arte, cultura, trekking, visite guidate, gastronomia e soprattutto di festa nella meravigliosa location del Parco dei Molini a San Pietro Altanagro. Venerdì 29 luglio e sabato 30 sono numerosi gli appuntamenti in programma. Dal punto di vista musicale si parte con Gerardo e Spacca Paese, poi con Riserva Mooc il 30 luglio invece sarà il turno di rito antico e direttamente dalla notte dell'Atalanta è in programma l'esibizione dell'orchestra popolare per la prima volta nel Vallo di Diano. L'ingresso agli eventi è gratuito e si potrà vivere un'esperienza unica dal punto di vista ambientale e artistico. Si riaccendono così le luci sul Parco dei Molini, tra il verde della natura, la fraschezza dell'ambiente e il fruscio delle acque che alimentavano i vecchi Molini si svolgerà la settima edizione della Notte dei Molini. Rural Festival di musica, radici e tradizioni impopolari a ingresso gratuito. Uno scenario unico e suggestivo che accoglierà due serate all'insegna di musica popolare, enogastronomia, attività culturali, arte e tanto divertimento a ingresso gratuito. L'evento rientra nel POC Campania Vale delle Orchidee e organizzato dai giovani della Proloco di San Pietro Altanagro, patricionato dal Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni e dal Comune di San Pietro Altanagro. Non solo musica ma anche numerose attività collaterali per rendere ancora più unico il tutto dai workshop sul fumetto alle mostre d'arte passante per il mercato dell'artigianato e convegni e sulla sua tutela.